Patricia, mi dispiace molto per la tua perdita. È calma tua! Non immagino nemmeno come possa sentirti. I tuoi figli... Risciacquo. Risciacquo. Sono al sicuro ora. Ma l'hanno sentita piangere. Hanno sentito il bruciore delle sue lacrime. Lo sentiranno. E lei verrà a prenderli. Che? La llorona. Padre, puoi aiutarci? La chiesa collabora con persone che sono specializzate in situazioni del genere. È la llorona. Sta arrivando. Lei è già qui. Che dobbiamo fare? Siamo di fronte a un male. Che non ha limiti. Risciacquo. Risciacquo. Riesciacquo. 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 Grazie a tutti